Sindaco, una situazione che ha sconvolto un po' la comunità di questo territorio, purtroppo l'avete anche qualche familiare suo convolto in questa operazione, parliamo, si può assistere ancora a queste cose? Assolutamente no, non si può assistere a queste cose. L'amministrazione comunale ieri ha rilasciato proprio un comunicato stampa dove ha espresso massima vicinanza, solidarietà e soprattutto ha sostenuto le due ragazze per tutto ciò che è accaduto. Noi ovviamente non vogliamo sottotitirci agli organi inquirenti, non possiamo nemmeno dire nulla e entrare in merito alla questione, ma il quadro che oggi ci troviamo è un quadro allarmante per una comunità, una comunità che stava cercando di sorridere, anzi che era tornata a sorridere, ma purtroppo si ritrova oggi a vivere un giorno dopo veramente brutto e angoscioso per la nostra comunità. Avere legami di parentela o familiari coinvolti, come dicevo prima, non voglio entrare nel merito della questione, voglio credere, voglio pensare che tutti gli imputati abbiano motivo in modo di tutelarsi e di confrontarsi con quello che è il contraddittorio previsto dalla Costituzione, ma quello che posso oggi dire è che uno dei principi più belli del codice penale è che la responsabilità penale e personale e in secondo momento voglio proprio dire che chiunque ha sbagliato è giusto che paghi, soprattutto questo tipo di reato. E con lei dice che si costituirà parte civile nei miei processi e con l'amministrazione? Il Comune di Seminara si costituirà parte civile in un eventuale procedimento penale proprio perché sente l'esigenza di stare vicino alle ragazze oggi offese, ma soprattutto senza stare vicino ad una comunità, senza stare vicino alle donne di una comunità e senza stare vicino a tutta la comunità che oggi purtroppo non vive un bel giorno. Quindi al di là di tutto l'amministrazione comunale deve essere istituzionalmente presente e deve trovare il modo, oltre alla Costituzione di parte civile, che è un bel gesto da fare, ma vuole trovare il modo di essere vicino a tutte le vittime, a tutte le donne, a tutti coloro che oggi si sentono offese e vuole dire a loro tornate ad avere coraggio, tornate a sorridere, tornate ad avere l'amministrazione comunale come riferimento per qualsiasi possa essere la vostra esigenza, un'esigenza di confronto, un'esigenza di tutela perché l'amministrazione comunale è presente e il sindaco vi ascolta. Che ci ha pensato a dare dimissione lei? No, non ci ho pensato, anche se ho vissuto momenti veramente di angoscia, però non ci ho pensato perché tradirei il mandato elettorale che mi è stato conferito. Un mandato elettorale che abbiamo visto riprendere la comunità, abbiamo tanti progetti in avanti e non me la sento di tradire questa comunità. È normale che sono momenti brutti, soprattutto quando toccano alcune situazioni familiari, sono momenti brutti, soprattutto quando ci sono questo tipo di reati che comunque danno angoscia e soprattutto fanno capire che c'è uno sfilacciamento sociale, uno sfilacciamento culturale è tale da non poter permetterci, uno, le dimissioni, perché dimissioni significa lasciare la spugna, in questo momento non ce lo possiamo permettere, e due, dobbiamo cercare di recuperare quello che è il tessuto sociale e quelli che forse sono le vere responsabilità che oggi le istituzioni hanno, non capire questi sfilacciamenti, non capire questi disagi sociali e quindi dobbiamo metterci al lavoro per poter prevenire il tutto, quindi l'amministrazione si impegnerà a prevenire il tutto, l'amministrazione si impegnerà a tutelare tutte le ragazze, tutte le donne, tutti gli uomini che comunque possono essere offesi a qualsiasi tipo di violenza, però l'amministrazione comunale continuerà il mandato politico che è stato conferito e l'amministrazione comunale continuerà il più forte di prima.